Su direttiva del comandante della Polizia Municipale di Vittoria Cosimo Costa, gli operatori della squadra nonare del comando hanno intensificato i controlli al mercato orto-frutticolo e negli esercizi commerciali della città. Particolare attenzione è stata quindi rivolta ai controlli all'ingresso all'interno del mercato al fine di verificare il rispetto del regolamento vigente, delle ordinanze, degli orari e delle regole imposte per l'accesso. In questo ambito numerose sono state le persone che, volendo accedere al mercato in qualità di passeggeri di auto munite di token, sono state identificate per effettuare la dovuta registrazione. Sempre nel corso di questi controlli sono stati individuati diversi soggetti che utilizzavano impropriamente token o badge per l'ingresso al mercato e nei confronti dei quali è stato operato il ritiro temporaneo per effettuare accertamenti da parte degli uffici. Durante i controlli, mirate a verificare che l'attività venga svolta effettivamente alle ditte concessionarie e nel rispetto delle norme, sono stati elevati due verbali di violazione amministrativa. Uno per il regolamento di occupazione abusiva da parte di una ditta commerciale e l'altro per violazione di ordinanza per mancata emissione di foglie avvisi vendita da parte di una ditta concessionarie titolare di un posteggio. Nell'ottica poi dei servizi mirata alla tutela del consumatore, sempre la Polizia Municipale è iniziata ad effettuare servizi congiunti col perso dell'ASP, riscontrando alcune irregolarità in materia di autocontrollo, in particolare esercizi di rivendita di ortofrutta che spongono i prodotti all'esterno. Il personale del comando ha rimarcato il comandante Costa e quindi impegnato in un'attività di controllo che ha come obiettivi soprattutto rispetto delle norme, tutela del territorio e anche e soprattutto tutela dei consumatori. Grazie a tutti.